Allora, siamo incontrati al 100% di ragazzi, sono... Certo, prego, 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 prego... E lì, dopo... Non è l'ottavo nonesimo, è l'ottavo quinto, è l'arzo. Certo, io ringrazio Dio che... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 uscire? com'è? top 5 cazzo non stanno trasmettendo ah ma perchè? uscire vai fermo oh my god ti ha segnato rosco 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 vai vai viva 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 xo Grazie a tutti. 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 Ha fatto un rumore sinistro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mani. Bravo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Yeah. 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 Sì, bravo! Ma che ostia di me! Grande Giacottino! Grande! Sì, bravo, stunned. Bravo! Bravo, bravo! Bravo! Grazie a tutti. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Grazie a tutti. 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.